Beh, allora rispetto alla nostra esperienza, ovviamente io non sono un esperto di efficienza energetica, ma rispetto all'esperienza che abbiamo fatto, ovviamente come in tutte le cose poi va valutato caso per caso. È chiaro che realizzare un edificio nuovo, quindi demolire e ricostruire, per evitare di usare del nuovo suolo, quindi la tendenza è quella, ricostruire è sicuramente la strada migliore, nel senso sia per l'ottimizzazione della prestazione energetica dell'immobile, sia dal punto di vista economico, perché ovviamente l'efficientamento energetico o realizzare un immobile che ha un'importante performance energetica ha un costo superiore, no? E quindi ricostruire e fare una cosa nuova sicuramente è la strada migliore, però questo non è sempre possibile. E quindi bisogna anche pensare di riadattare degli immobili esistenti che sicuramente non raggiungeranno mai quel livello di prestazione, però magari hanno altre qualità, no? Adesso la prestazione energetica non è l'unico elemento, anche se per noi è un obiettivo fondamentale, no? Nel senso che dobbiamo assolutamente perseguire, ma ci sono delle situazioni nelle quali non è possibile, soprattutto in Italia con il patrimonio che abbiamo, patrimonio storico e poi soprattutto negli immobili abitati di proprietà privata. Quindi quando è possibile, chiaramente la demolizione e ricostruzione è il percorso migliore, ma anche perché la sostenibilità non si raggiunge solo attraverso l'uso di certi materiali o l'efficientamento, ma anche attraverso le distribuzioni degli spazi, a come si usa lo spazio. Ovviamente se si interviene su un edificio esistente i vincoli sono tali che spesso non si riesce a raggiungere una progettazione ottimizzata, no? E quindi ad usare in modo razionale tutto lo spazio che si ha a disposizione. In un edificio nuovo invece questo è possibile, soprattutto nell'housing sociale dove le superfici hanno un valore molto importante perché sono direttamente correlate con il canone che si può applicare. Quindi sicuramente la demolizione e la ricostruzione è uno degli obiettivi. Ovviamente in Italia, ripeto, questo non è sempre possibile. Grazie a tutti.